Quello che ho costruito è un circuito parallelo ed è dotato di due interruttori Infatti è possibile accendere questo motorino che ho smontato da una macchinina in due modi Il primo è utilizzando questo bottone rosso che appunto accenderà il motore Oppure si può anche premere su questo interruttore che è comunemente usato per le luci di casa Poi è presente un bottone verde qui che aziona questa lampadina a led da 12 volt Abbiamo due generatori di tensione che rappresentano rispettivamente una batteria da 9 volt e una batteria da 12 volt Come potete vedere si accende la lampada led e si spegne E il circuito è dotato anche di una lampada di prova che serve a testare il funzionamento del circuito Infatti se si collega la lampada di prova a un filo di rame qualsiasi e poi si va a posizionare la lampada di prova sul generatore di tensione Si vedrà che la lampadina si accende per cui il circuito si chiude Questo è un circuito in serie formato da un generatore di tensione, i fili conduttori, gli utilizzatori e l'interruttore La corrente passa dalla batteria ai fili conduttori e che vengono fermati, vengono bloccati dall'interruttore Che in questo momento è in posizione aperta e quindi non lascia passare la corrente per i fili Che quindi non accendono gli utilizzatori Se invece io premo l'interruttore, esso va in posizione aperta e quindi lascia passare la corrente che accende gli utilizzatori Questo è un altro circuito in serie ma con la differenza che ha una batteria più grande e da 4,5 volt E gli utilizzatori sono diversi Questo è l'interruttore e quando viene premuto funziona esattamente come l'altro Cioè i utilizzatori vengono accesi Se riempiamo un qualsiasi contenitore in plastica con dell'acqua del rubinetto E aggiungiamo al suo interno alcune gocce di acido, in questo caso il limone Noteremo che vicino ai chiodi che sono stati immersi nella soluzione Si inizieranno a formare delle microscopiche bollicine E ciò è legato al passaggio della corrente elettrica Che passa dai due poli del generatore di tensione Passa per il filo conduttore e arriva fino agli utilizzatori, in questo caso i chiodi Che appunto grazie alla corrente elettrica vicino ai chiodi Si formavano queste minuscole bolle di gas E questo è il fenomeno dell'elettrolite Questo è uno dei tanti cartoncini per auguri di buon Natale O comunque di buon anno Prodotto dalla terza I E questo cartoncino è comunque formato da una semplicissima lampadina LED Che è con due cavi di rame Che uno sono collegati al pollo negativo della batteria E all'altro viene fatta una specie di molla Che in modo quando si chiuda il cartoncino può fare, come vedete, può fare contatto E si accende, diciamo, la fiamma del camino Che in questo caso abbiamo deciso di disegnare un camino natalizio Quest'altro lavoro è molto simile a quello di prima Soprattutto per il funzionamento Poiché hanno la stessa pila LED Cambia solo colore E poi hanno i due fili di rame Che vanno a contatto con la batteria In modo che chiudendo Faccia contatto E si accende la stella dell'albero di Natale Anch'esso per auguri di buon Natale O comunque di buon anno Per periodo natalizio E qui, come possiamo dire, la pagina è proprio vuota Per scrivere i più sentiti auguri Questo è un bigliettino che si illumina E quando si raggiunge una certa angolazione Il bigliettino si illuminerà E attiverà una canzoncina Infatti, c'è un interruttore qui al centro Come potete vedere E quando raggiungo questa angolazione L'interruttore si accende E inizia a cantare Per cui c'è una cicalina qui all'interno Una cicalina che registra i suoni Ho registrato la canzone di buon Natale Una batteria qui e un filo conduttore Un circuito abbastanza semplice E molto carino Questo che ho costruito È un biglietto luminoso Per gli auguri di Natale Con un circuito elettrico all'interno Quest'ultimo è formato Da un generatore di tensione Ovvero una batteria a bottone Poi due fili in rame Esternamente ricoperti Da un materiale isolante In plastica E poi abbiamo l'utilizzatore In questo caso Un piccolo led di luce rossa Il biglietto luminoso Entra in funzione Quando il filo in rame Entra in contatto Con la batteria a bottone E provoca l'accensione Del pupazzo di neve